Io innanzitutto volevo fare i complimenti a Michele perché questa edizione è stata veramente bellissima. Io seguo il Sudessima da tanti anni e credo che quest'annato sia raggiunto davvero il top della qualità. È una cosa bella questo festival perché è un festival per la città, è un festival per la gente, è un festival e soprattutto che si preoccupa anche della formazione di un nuovo pubblico e questo mi sembra una cosa veramente bella. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche a tutta la squadra naturalmente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.